Il titolare è il primo Ma non spara il cannone dal Gianicolo Ripian po', ripian po', va dai, emergenza Oh, è un motoschiafo, è un motoschiafo Dove è l'emergenza? Nooo, ma no A chi? 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 Ma lascia, com'è qua? Dico lascia, ma pure lì Dico Mi pare esagerato i dici No, no, no E' uno E ho capito, ma Ho capito, ma Hanno ripreso Sì Ma con il suo bello Ha fatto colera Si Ehm Ah Che è dentro? Ma aspetta, sì Dove Butere sotto No Esatto Ci vediamoami Sì, sì, sto a casa.